Giuseppe Garibaldi, qual è l'impresa per cui si ricorda? L'impresa per cui tutti noi ricordiamo Giuseppe Garibaldi è la Spedizione del Mille, parte da Genova e riuscirà in breve tempo a conquistare tutto il regno delle due Sicilie che deciderà di dare al re di Sardegna facendo così nascere il nuovo regno d'Italia. Grazie per la visione! 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 Ciao al prossimo video, vi aspetto!